Dopo aver visto nella scorsa lezione un esempio significativo di classe, ricordate quella delle frazioni, oggi è arrivato il momento di procedere con gli aspetti sintattici della OPI. E ho intenzione di parlarvi di Static Members, membri statici. Come al solito conviene partire dalla situazione che rende necessaria la novità sintattica. Immaginiamo che in un sistema CAD sia necessario sapere, per fini statistici, di monitoraggio delle performance, quante primitive geometriche di un certo tipo sono state create, in modo casuale, leggendo un file AutoCAD a disco, o in base ai comandi dati dai menu con l'interfaccia grafica tra l'utente, insomma, quanti punti, in un certo punto dell'utilizzo, sono stati creati, ad esempio. E poiché non possiamo certo scriverci un intero CAD, ho qua simulato la creazione in modo casuale. Ho dichiarato un oggetto R di classe Random, grazie al quale poi posso generare numeri casuali interi, o float, o a limite anche booleani. Ho usato questo overload, questa versione del metodo NextInt, sul progetto R, che fornisce un intero casuale, non più grande, del valore che viene specificato, quindi da 0A. E solo quando il valore estratto è uguale al numero 5, ho generato un punto. Notate come l'abbia fatto al volo, senza neppure memorizzare un riferimento al punto stesso, tanto poi non è che devo usarli, sto solo simulando una situazione. Quanti ne crea? Beh, siccome è di default, penso che la distribuzione di probabilità utilizzata sia quella uniforme, vuol dire che sto creando un punto soltanto una volta su 10, quindi mi aspetto che il valore oscilli tra poco meno di 1000 e poco più di 1000. Chiaramente, ed è questa la cosa interessante, mi sono organizzato nella classe per fare il conteggio, e ho reso disponibile un metodo pubblico, intero, come valore istituito, getConta. Per cui, dopo il ciclo for, lo richiamo per sapere quanti punti sono stati generati. Proviamo, la prima volta, 937, riprovo, 996, 1013, in effetti stiamo oscillando intorno a 1000, come ci aspettavamo. Il fatto di non aver sguinzagliato un contatore, qua, all'esterno della classe punto, per sapere quanti ne sono stati creati, è in perfetto stile OP. È brutto, perché in questo modo, invece, ho la classe, completamente autonoma, anche nei suoi metodi di monitoraggio e di statistica. Quindi, l'intero che corrisponde al valore restituito da questo metodo getConta, è chiaramente definito nello stato interno della classe. Ma, un minimo di ragionamento, ci fa capire che non può essere una semplice variabile int, conta, segna 0, e poi nel costruttore, ogni volta che passiamo di lì, lo incrementiamo. Perché qual è il problema? Il problema è che ogni singolo, diverso oggetto, di tipo punto, avrebbe il suo contatore. E ogni volta avrebbe rimesso a 0, è incrementato a 1. E quando avessi poi chiedere su uno qualsiasi di questi punti, quanto vale il tuo contatore, mi risponderebbe 1. Infatti, qua, forse qualcuno di voi ha già colto la stranezza, ma cosa sta facendo? In precedenza ci ha spiegato che è molto importante mettere prima del nome di un metodo o di una variabile, che stiamo richiamando, il nome di un oggetto, perché la classe non definisce gli esemplari, ma il modello con cui questi vengono definiti. E qua si sta smentendo, perché sto usando, sta usando, io sto usando, il nome della classe. Cosa sta succedendo? In quasi tutti i linguaggi OPI c'è la possibilità di definire dei membri, cioè delle variabili dello stato interno, e anche dei metodi, chiamati di classe o statici. Statici perché non sono legati, per la loro esistenza e utilizzo, alla creazione di un certo oggetto, prima di poter essere utilizzati. No, esistono fin da subito. In realtà io potrei chiedere questo getConta, che è un metodo, ve lo anticipo, statico, anche senza aver mai parlato, creato un punto. Quindi posso tranquillamente commentare tutta questa parte, mandare in esecuzione e ottenere 0, come è giusto che sia. Nel CAD non sono ancora stati creati i punti, 0. Ma per saperlo, non ho dovuto prima creare a vuoto un oggetto punto, che poi mi avrebbe sballato anche il calcolo, giusto? Per poter poi chiamare su quello P1 il getConta. No, no, l'ho fatto direttamente sulla classe, perché questo metodo è un metodo di classe. Tante classi di servizio sono realizzate come contenitrici di metodi statici e variabili o costanti statiche. Tipicamente la classe Math per i calcoli matematici, per cui, insomma, se per calcolare la radice quadrata di un numero fossi costretto tutte le volte a creare prima un oggetto di classe Math, per poi poter dire oggetto punto SQRT, per calcolare di solito il nome è questo, square root, la radice quadrata di un numero, che pesantezza! Invece, senza dover far nulla, di solito si può scrivere per queste classi, come dicevo prima io, chiamate di servizio, il nome della classe Math e poi subito il punto, come io sto facendo prima con la classe scusate gioco di parole dei punti, e mi ritrovo qua tutti i miei bravi valori assoluto, il seno, il coseno, così mi faccio odiare parlando troppo di matematica, minimo, massimo, ecco, posso farlo subito, direttamente. Ma non ci sono solo delle funzioni, dei comandi che posso utilizzare direttamente sulla classe, ma anche delle costanti, tipo il pi, il pi greco, quindi se voglio ad un certo punto in un'espressione calcolare l'area di un cerchio con raggio 27.2 scelto a caso, scriverò area cerchio, cerchio, variabile double, assegna il prodotto tra pi greco e fpi per il raggio al quadrato, qui sfrutto il metodo pau che fa l'elevamento a potenza, questa è la base, 27.2 al quadrato si scrive virgola 2. Ecco, è quello che ho realizzato poi per la nostra classe punto, invece del pi greco ho definito una variabile statica interna intera, chiamata, se ne ricordo male, ora vediamo, comunque conta, e poi invece di un metodo come l'SQRT, sempre statico, ho reso disponibile questo get conta. Ora avete capito più o meno l'idea che sta dietro tutto questo, andiamo a dettaglio con il codice che poi di per sé è veramente semplice. intanto che c'ero, per poter creare in questo modo comodissimo e rapido un oggetto a perdere di classe punto, ho perfezionato la classe aggiungendo il costruttore che accetta zero parametri, che è questo. Richiama col dis il suo fratellone fornendo 00 come accettabili valori di default per un punto indefinito. Poi vediamo le cose nuove e interessanti. Qua ho dichiarato static, e quindi questo private int conta non appartiene a un oggetto, a un esemplare in particolare, ma è condiviso tra tutti e un qualsiasi medito richiamato su un qualsiasi oggetto punto potrà accedere in lettura o scrittura a questa variabile conta. Ma io mi sono accontentato di accedere a conta soltanto dal costruttore quello principale che poi richiamano tutti. Ecco un altro vantaggio del dis, che avendo ampliato quello base di costruttore tutti gli altri risulteranno su parimenti ampliati. Conta più più, ogni volta che si crea un punto e viene incrementato. E infine il metodo sempre statico, pubblico, per poterlo richiamare come avete visto nel main, che restituisce un intero, get conta, che semplicemente fa un bel return conta. E qua finisce la lezione. Nella prossima cominceremo a trattare gli oggetti che rappresentano classi geometriche, figure geometriche un po' più complesse come il segmento diretta, il rettangolo, eccetera e prenderemo spunto per vedere come costruire classi basandosi su altre. Tutto sommato il segmento diretta lo posso ben, tra le varie possibilità, non è un obbligo, costruire dicendo che il suo interno definisce due punti, no? Che sono i suoi estremi. Vedremo come fare e quali responsabilità cadono sulle spalle dell'oggetto contenitore, che è il segmento, nei confronti degli oggetti contenuti. In questo caso saranno i due punti dei suoi due estremi. Alla prossima!